Vi presento il Christmas Assist. Non solo compra il regalo, ma spedisce anche il biglietto. Amelia, non credi che così si perda il senso dello scambio dei regali? È un no. Riscoprire il vero significato del Natale. Che significa che non capisco il Natale? Sono nata a Christmas Creek, non esiste niente di più natalizio. Per ritrovare se stessa. Ho intenzione di tornare alle mie origini. Per il ciclo Magic Night. Return to Christmas Creek. Domenica in prima serata, sulla 5.